Sapere quando ci sono i tornei, cosa faccio durante le live, se provini, se gioco con gli iscritti, con gli apponati, se faccio rank. Ok, perfetto, allora sì, possiamo giocare dopo. Mi raccomando, mettiamo like ragazzi che ci prendiamo il forzere gratis. Se arriviamo a 75 spec insieme, vi regalo una skin, come già ho regalato a due persone ragazzi. Allora ragazzi belli uniti, andiamo eh. Siete come se... Fati i miei bacchi. Sì. Perfetto. Dai che siamo quasi a 10 ragazzi, eravamo a 10 prima, buono. Le rank del gioco con le persone che mi trovo bene, poi del team. Chiocciola, lovnik, signor, domani mi racconti. Piazza, mi stanno vedando. Arriviamo, arriviamo. Ma c'è qualcuno in coda. Ma c'è qualcuno in coda. Eh, per il momento ho sbagliato, va bene. Chiocciola Gab, ti dico solo che mi ha scritto Monica A. Come ti ha scritto Monica? Ma solo. Come ti ha scritto Monica? Hanno fixato... Arrivo, arrivo raga. Eh, io ne ho deciso i due. Bravo. Se mi trovo bene con il team magari facciamo anche le rank, raga. Ma il presupposto non è quello. E cosa ti ha scritto? Cosa voleva? Altra gente no. Gli ho dato uno di quei pali. Hai fatto bene, hai fatto bene. Assolutamente. Io sono full di... Racconta ora. Eh, io sono capo tutto. No, io sono full di... Come si chiamano? Merikit, eh? Mi fassi, mi dispiace, mi manchi questo quello. Raga, stiamo più uniti possibili. Ora arrivo. Scusate. Partita un po' noiosa, eh. Ma non era zitta? Eh, sì. Io non vedo nessuno. Vedete gli amici? Eh, qua... In là c'è un Zeus che mi ha andato in attivizzare. E poi, bah, qua. Non vedo nulla, nessuno. Tutti morti. Qua, nemici, davanti? Ci vado, eh? Sì, sì, io non c'ho nulla. Me ne sto un po' safe qua. Grazie per il follo. Mi sparano? Qua c'è gente. Ma i provini per entrare nel tuo team si possono fare anche oggi. No, oggi no, raga. Grazie per aver fatto. Io ne ho fatti due. Ciao, ragazzi. Da dietro di me? Mi ha fatto un po' di danno. Non metti la full time. Voglio vedere come tieni la tastiera. Chiocciola, Gab, ciao, bello. Mi ha fatto male. Raga, mi serve una mini mano. Sei riuscita? Mi sto scendando. Sto arrivando, sono. Ok. Sto arrivando uno da te? Eh, lo so. Sono messo malissimo. Magari... Magari ci provo. Grazie per le condivisioni, raga. Ho tre colpi pompa. Sto arrivando. Se riesci, venite a me. Mi posso dare dei colpi. Dove sei? Sono qui. Occhio qua. Occhio a questo. Crack uno. Ho bisogno... Ok. Ok. Ok, ti scappa dentro. Crack uno. Ehm... Dagli un colpo al mio, dagli un colpo al mio. Troppo separati. Vabbè, ci sta. Questo gioca solo con... Con le cose, come si chiamano. Ha venti di vita, il mio. Guarda che se spari dove c'è la mia scheda, ce n'è uno con venti di vita. Vai. Guarda come gioca a questo. Non stiamo fettando neanche lo stesso team, raga. Come tengo la tastiera? La tengo tutta stopta, raga. Dai, ma guarda questa. Ah, sì. Non c'è più mazze? No. Grazie per il pollo, Maranza. Grazie di cuore, bello. Vi ricordo. Link del Discord, invio per sapere quando gioco, come gioco, se quando faccio i tornei, quando gioco con gli iscritti. Bella. Ciao, bello, come stai? Ragazzi, bisogna di persone con il microfono, eh, però. Perché se no... Va bene. Game room, meno, io non ti sento. Bene te. Benone, benone, ragazzi. Molto, molto bene. Samo che brutte le catene di Ade. Sì, ma hai visto, infatti, come mi ha ucciso Scorrax? Con le catene di Ade. Guardalo. Ancora. Bravo, bello. E lo so. Ma questo fa... Il gorilla. Sì. Bravo. Scusa per il vero, se ti facevo cadere, ma non lo sapevo. Vai tranquillo, caro, vai tranquillo. Vai tranquillo. Bravo. Hai un minuto per restarmi alla tua destra, se vuoi. Grazie per il follow, Andre. Grazie di cuore, caro. Dove? Lì a destra, ahah. Ragazzi, mettete il microfono, perché se vogliamo fare delle belle partite, stare uniti e crescere come team, c'è bisogno di persone, di sentirsi bene e comunicare bene con la squadra. Fra ma da ora giochi solo con quelli che sono nel team. Esatto, sì. Esatto. Così andiamo a portare dei bei contenuti, andiamo a portare allenamenti per chi non è del team. Io vado. Sì. Non è oggi il provino. No, solo con le persone del team. Grazie per le... Grazie per le donazioni, ragazzi. Iscrivetevi sul Discord, link in bio, perché vedrete quando ci sono i provini, quando gioco con il team, quando gioco con l'Academy. Tutte le cose, eh, raga. Non vedo cosa ha pingato. Eh, ti ho lasciato uno scigione e... No, sopra non vedo... Ok. Ok. Ah, ok. Quindi posso giocare, sì. Chi sei? Chi cavolo è che spara qua? Eh, no, scordo io. Ah. Ok. Eh... Scorrax. Certo, certo. Che puoi giocare... Scorrax. Oh, c'è uno sotto di me, raga. C'è uno sotto di me, raga. Fatto. Sapete che è un po' lontana la safe? Forse ci muoio. Ah, ok. Ok, ok, hai visto. Perfetto. Ho sbagliato, potevo anche non prendermelo. Grazie per il cuore infocato. Ho sbagliato, ma bella. No, non sono fortissimo, raga. Sto imparando a giocare, dai, MK. Vai, raga. È un po' lontana, è sto safe. Eh, lo so. Ho fatto una cazzata, ma ero... Lo so, lo so, lo so, lo so, raga. Lo so, raga. Lo so, raga. Ho visto dopo che avevo pompa in più. Vabbè, però ci sta, dai. Tanto siamo arrivati in safe. Vai, non ci serve. Lo so, ragazzuoli. Non ci sono lasciati. No, io lo so che è qua in safe, perché se no da voi non sono trappontati. Vabbè, ci arrivi. Sì, ovvio che ci arrivo. Dai, facciamo vittoria. Non la tirare. Io... No, sono a posto di tutto, dai. Purire, purire. Se abbiamo un cecchino in più, io lo prendo volentieri, ragazzi. Eh, dovremmo luttare là. Abbiamo 9 kill. È partita un po'... Volpi pompa che hai quello spam. Possiamo mettila full cam. Voglio vedere come tieni la tastiera. Eh, raga, full cam... Ma perché mi lasci le cose e poi te le riprendi? Grazie, caro. Siamo lontanissimi. Full cam vuol dire prendere un'altra cam, raga. Perché... Non basta la full cam per vedere la tastiera. Gente da te, eh? Eh, sì, ma tanto cado il treno. Ah, ok. Però la compro. Se la volete, ragazzi, scrivete su... Discord miglioramenti. C'è una selezione miglioramenti. Scrivete... Hai la cam incorporata nel PC o la hai che si stacca. Che si stacca, che si stacca, raga. Però se volete... Miglioramenti, scrivetelo sul Discord sezione miglioramenti. E vediamo quante persone consentono. E se io la voglio. Vai, raga. Sul Discord, molto volentieri. Scrivetelo. Ah, se c'è la spuma... La prendo. 105. Gente si trovi. Morto uno. Morto due. Arriva l'altro. Ah, bot. Voleo. Gente da dietro. Gente da dietro. Meno c'è chi nato. Ma ho visto che mi hai mandato il link Discord. 34 al tuo. Gente dappertutto. Eh, lo so. Adesso ci vedrai quello con il medaglione. 101. Uno fatto. Mi entra. Ricarico, ora pompa. Sono FK. Dove cavolo è andato? Ok, fatto. Sono in low, eh. Devi darmi un attimo. 14. Sparano ancora da dietro. Mi sparano da destra, eh. Fai attenzione da destra. Sì, sì. Mi sto curando. Io mi boxo. Dimmi se sei... No, no, ci so. Sto c'è, sto c'è. Ancora per un po'. Mi devo fare... Il medikit, eh. Curo lui, curo lui. Vai. Stiamo... Stiamo tutti e due giù. Eh, sta arrivando. È scelto qua, scelto qua. Mi sta uno sopra? Sì. Io ho tutto... Mi sto fullando. Eh, uno giù. Uno è andato giù. Uno è andato giù. Uno è andato con noi. Vai. Visto? Sto arrivando già? Fatto. Buono, buono, ragazzi. Occhio che ci sparano. Tengo il muro. Assolutamente sì. Bello. Vuoi il giochino, tamo? Ce l'ho, ma non ho ancora avuto il tempo di vedere che mirino ha. È a posto? Sono a posto con le loci. Dovremo andare in te. Dovremo andare in te. Lascio una mitraglietta blu che non la voglio. Vorrei portare delle cure in più. Eh, io ho tre mediti e tre scildini. Ok. Comunque ci sparavano. Facciamo attenzione. Eh, sì, sì, sì. Buono, ragazzi. Eh, Game crew me lo parlava, però me. Sì. Giochiamocela bene, eh. Io posso lasciare subito qualcosa se ci sono cure. Ci stanno medichi, pesci e... Basta. Due, porto tre medichi, tio. Vai, vai. Portati pure io, tanti medichi. Ok. Andiamo insieme. Bella giocata. Grazie, Scorrax. Gente qua? Sono fuori, sono lontano, eh. Dove qua? Io a lui e lui a me. 27, bravo. Bravissimo. Mamma mia, questo l'ho, tipo... Prendo like sull'isola solo per jumpare. Sì, sì, sì. Eh, ha fatto bene. Lo devo fare io, bravo. Sai che è difficile usare sto cavolo di... Di potere di Ader. Eh, lo so. Eh, infatti io lo lascio allo stelle perché... Grazie per il follow, ragazzi. Grazie, Marco. Arriviamo, arriviamo. Ti ricordi di me. E... Chi sei, Marco? Dimmi un po' meglio chi sei. Posso giocare dopo. Solo le persone del team, eh, possono giocare. Dove, regà? Eh, qua da noi. Davanti a... Ci fa uno, è uno. Siamo uno contro tre. Giochi con me? Ma no, eh, non ci sta... Ah, vero, io non sono del team RIP. Comunque sei migliorato un botto. Grazie. Grazie, Marco. 263. Metti un ping, metti sempre un ping. No, c'è chi l'ha in testa? Dopo puoi fare una partita con iscritti? Eh, no, ragazzi, entrate sul Discord, link in bio. Facciamo poi il provino così poi possiamo giocare, ragazzi, anche con voi. Se invece non passate il provino, entrate nell'accademia, ci alleniamo. E così portiamo sempre dei bei contenuti. Su YouTube, su TikTok, con delle belle partite, raga. Oggi stranamente stanno facendo il devasto così chino. Quando provino? Ragazzi, sul Discord c'è tutta la programmazione. Uscirà la programmazione oggi della prossima settimana. Ragazzi. Sparano, vai. Sì, 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 sto andando. Dopo dovremo andare in testa. Comunque, secondo me, crescerai un porto di pollo e diventerai uno famoso. Una terra. 110. Fatto. Grazie, lo spero tanto, tanto, tanto. Mi fa piacere. Ottimo, raga. Bella. Raga, direi che a cure siamo messi bene. Qua c'è questo. E andiamo in safe, raga, che non ci serve nient'altro. Grazie, mi fa piacere davvero tanto, caro. Mi fa davvero piacere. Questi feed... Gente qua? Da me uno, è solo uno. Buono! Prima winner, ragazzi! Grandi! Grandi! Avete visto, ragazzi, perché voglio giocare col team? Perché chi non è forte lo andiamo a allenare. Chi è forte andiamo a portare dei bei contenuti che vi piacciono, ragazzi. Prima partita vinta. Gabi Romeno, mi riscrivi come mai non hai il microfono, se succede, se puoi metterlo. Buono, buono. Prima win, ragazzi. Qual è uno? Buono. Buono,